Io se posso qualche secondo perché fermo restando che se ci sono quei numeri dei controlli vuol dire che innanzitutto le forze di polizia a Napoli fanno un lavoro molto capillare. Poi consentitemelo, Napoli è una città che conosciamo tutti nel mondo, Napoli è fatta di vicoletti e se ci sono 7-8 persone a camminare per un vicolo di Napoli che stanno o chi accompagna il cane o chi attende la bottega, poi le mascherine come sappiamo non solo non sono obbligatorie per alcune categorie ma ce le dovrebbero anche fornire, a me non sembra che abbiamo visto immagini di assembramento, bisogna capire questo se uno viene alla Pignasecca a Napoli, ad Antignano, alla Sanità, al Vasto, noi abbiamo tante botteghe alimentari vicine e la gente che abita è in una conformazione che è molto mediterranea, quindi là c'è un controllo delle forze di polizia c'è qualche irresponsabile, qualche imbecille come in tutte le parti del mondo, però io mi sento, ma lo dico non per pregiudizio da sindaco e da napoletano che i napoletani si stanno comportando talmente bene che noi in questo momento se riusciamo a far fronte anche a un sistema sanitario che purtroppo è saltato, è grazie ai soldati napoletani, ai medici, agli infermiti poi se vengono più poliziotti, più carabinieri, più esercito a Napoli, in Campania, in Italia noi siamo contenti, ma non perché c'è bisogno del lanciafiamme, abbiamo bisogno del lanciafiamme per la verità per costruire più posti di terapia intensive, più fiamme ossidriche e meno propaganda se ve lo consentite Quindi non c'è bisogno dell'esercito, nel frattempo abbiamo mandato le immagini stamattina No, 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 ho detto l'esercito, c'è bisogno delle forze di polizia, ma non è che stiamo in coprifugno No, nel senso di più personale di polizia per fare più controlli perché c'è troppa gente Lei dice che alcuni quartieri hanno una configurazione tale per cui immediatamente sembrano assembramenti e anche dove assembramenti non sono, ho capito bene Esatto, poi ci sono dei casi